Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Super Mystery Dungeon Nella scorsa parte abbiamo esplorato i picchi torreggianti o come i diavolo si chiamavano E il mattino dopo vediamo ciò che succede Buongiorno Dark Devil, che bella giornata, siamo quasi arrivati a Brusili, a forza Oh ok Allora direi però prima di tutto di depositare un po' di cose Allora il cura cerchio non ci serve tanto L'elisir, elisir, bacca pesca qua no Revita il seme, il seme è basso e via E guardate quante sfere abbiamo trovato che non ci servono Le pietrisfere invece si, la samosfera anche Scaccia ramo, teletrasporta il trovo, il pokemon colpito e gli causa lo stato di pietrifiche Ah questo è forte, teletrasporta la squadra vicino alla parete colpita Vabbè questo no, pietrifiche ramo Questi ramo mi piacciono devo dire Però ramo tunnel via Allora, allora, cosa potrei ritirare? Beh, ritiriamo un po' di mele assolutamente 4 come la volta precedente Abbiamo dei, dei revital seme mini Boh, voglio controllare un attimo Pietrisfera anche, ne abbiamo 2 Comunque no, i revital seme mini non li vedo Deposita, ah comunque dopo un po' le mele penso diventino normali Eh sì, vabbè Vuoi proseguire? Sì, voglio proseguire Grotta agevole, piano meno 1 Ok, terra in pesta C'è un po' di tempesta di sabbia Vabbè la tempesta di sabbia la conosciamo Comunque dovrebbe essere avvantaggiato adesso Oshout Perché avendo la meteosfera La meteosfera si non dovrebbe subire danni Ok Proviamo a colpire Purtroppo adesso non ho più L'attacco molteplice Mi piace troppo quella Letos Veramente è fortissima secondo me Allora, frustata Idromampata E via Passa subito la paura Uh, finalmente comunque siamo tornati in un dungeon normale Spero solo che non sia pieno di Di, di, di Pokémon ecco Cioè, non sia enorme E pieno di Pokémon Allora, bolla Frana Oh, Oshout è salita a livello 17 Vorrebbe prendere una nuova mossa Con Chilama Oh, certo Certo Guardate quanto è forte Ehm Allora Direi di togliere Azione Sì, sì Tanta azione Chi se ne frega Se proprio dobbiamo colpire neutro Tanto vale andare di garanzia Perfetto Grande con Chilama Mi piace, mi piace Allora Il tempo è sereno Il tempo è sereno Qua vedo un sacco di Di matto magiche Quindi grande E Giusto 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 Lo stavo perdendo Questo Pokémon Allora Andiamo a combinare le nostre mosse Morso più garanzia Purtroppo fallisce garanzia Quindi nuovamente Riproviamoci Vedete garanzia Qua ha un effetto Molto più forte Troppo 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 Forte Allora Scendiamo Questa volta Non si sale più Ma si scende Grottagevole Piano Meno 2 Oh che bello Quanto mi piace Quando si arriva subito A parte che questo Piano era Immerso di roba Ma Meglio Andarsene subito Grottagevole Piano Meno 3 Allora Vedo una bolla Arrivare qua Da questo Scrap Oh Ok Mangiamoci la bacca arancia Easy Però attenzione Perché questo Scrap ragazzi Non scherza Allora Sintonizziamo le nostre mosse Garanzia Di nuovo C'ha anche avvelenato Cavolo C'ha anche avvelenato Povero Dove sta andando Poi Non lo so Avvelenato Non è una bella cosa Però purtroppo Se non Cavolo Devo trovare Un rimedio Il prima possibile Solo che Le bacca pesca Le deposito sempre Perché Non mi piacciono Dovremmo trovare Rapidamente Le scale Vediamo un attimo Se ci riesco Anche una bacca arancia Mi andrebbe bene Un po' per installare Cavolo Vabbè Penso proprio Di non riuscire A salvare Oshavot No Troppi pokemon Vabbè Vorrà dire Che gli daremo Un rivito Al seme mini Purtroppo L'avvelenamento In questi casi È Veramente brutto Ovviamente Ora Non lo lascio Anche scappare C'hai avvelenato I pokemon E vuoi anche scappare Onyx È immenso Veramente Povero Oshavot Povero Oshavot Che brutta fine Però siamo costretti Diciamo Allora Sgomento Morso Io sto continuando Di morso Ah non posso più usare Beh Sì Non posso più utilizzarlo Quindi proviamo a Eh vedete Povero Oshavot Allora Revital Seme mini Assolutamente sì Mini Per forza Stavo inseguendo Quell'onix Avrei voluto batterlo Però niente Non Non si fa più vedere Quindi Eccoci arrivati Alle scale Bene Adesso direi che La nostra esplorazione Sta proseguendo Molto più rapidamente Della scorsa Più o meno Stiamo facendo Un piano Al minuto Ho calcolato In media Nella scorsa parte Che invece Ci abbiamo impiegato Due minuti A piano Quindi se proseguiamo Così la parte Durerà pochissimo Ma ovviamente Sarà pieno Pieno di piani Oh Oh Attenzione Attenzione Allora Devo andare Per di là Non voglio far Subire dei danni A Ad Oshavot Allora Quindi una bella frana Boom 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 Ok Ah Furia Ha fatto male Cavolo Allora Dovrei sintonizzare Mosse più forti In queste circostanze Infatti Direi subito Di andare A sintonizzare Energy Palla Con Con Chilama Mai utilizzata Quindi Vai via Proviamola Energy Palla Con Chilama Ma no È impossibile Quanto cavolo è forte Questo Tauros No Aspetta Ecco perché Non Ha All'abilità No Cavolo Ha l'abilità Quindi che Gli permette di Stavo Stavo commettendo Un errore gravissimo Per fortuna Me ne sono accorto Eh no Perché ha l'abilità Giustamente che Mangia Le mosse Di tipo erba Mangia erba Cavolo Cavolo Quanto lo stavo facendo potente Comunque Eccone un altro Tauros ragazzi No buffalanto Questo è Non è un Tauros Non è da sottovalutare Direi nuovamente Di procedere con le mosse Sintonizzate E ce l'abbiamo fatta Allora Raffica attacco E vai Trovata Sfruttiamola Subito Nel nostro Grave roccia Sarei curioso Di vedere i danni Di grave roccia Vabbè Nei giochi Precedenti Non faceva tantissimo Però qua Penso proprio che L'abbiano Ristrutturata Totalmente Vediamo Che è da terra Non l'ho preso Wow Oh No 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 Allora Strumenti Non voglio Fare una brutta fine Quindi direi di andare Di pietrisfera Per forza Veramente Per forza E intanto Ne approfitto Per premere B e A E recuperare Punti salute Però giustamente Adesso ci si mette Di mezzo Anche la pancia Mangiamo subito Una bella mela E continuiamo A recuperare Ok Adesso direi Di andare Immediatamente Senza pensarci Due volte qua Allora Vabbè Sì Proseguiamo Senza Interessarci Di quel coso Abbiamo perso Un po' di tempo Su questo Su questo piano Devo dire Vabbè Comunque Furtivombra Bravo Che protegge Gli alleati Allora Buffalonto Veramente forte Per togliere Oshawot Da raggio d'azione Comunque direi Di Da raggio d'azione Di furtivombra Direi di fare così E poi Riproduciamolo Anche da quest'altra parte Con Chilama Che ne diminuisce La difesa Quindi adesso Frustato Dovrebbe fare Abbastanza male Perfetto Grave roccia Grave roccia Allora Qualcuno ha trovato Una vadisfera Qua c'è una baccaliegia Vabbè Per la parola Si potrebbe tornare utile Anche se Il peggior Stato È l'avelenamento Senza ombra di dubbio Guardate quante grave roccia Però le grave roccia Devo dire che Non mi ispirano molto Allora Se qualcosa Continua a sparare bolle Però È un casino Quindi Io direi Di Polifumo Diminisce la nostra Elusione Cavolo Mi rovina il cerchio Così Ah La mossa di cosa È inutilizzabile Quindi Frana E Idrovampata Dovrebbe andare bene Lo stesso Assolutamente Sono mosse Veramente Comunque Molto Forti Attacco Rapido Ah La furtivo Ombra Da dietro È brutta Allora Devo andare Per forza Per di qua Adesso Lui si è spostato Becca Di furtivo Ombra Oshout Però Io inserisco La superpotenza Qua E Lui si becca Pistolacqua E adesso Con quest'altro Frustata Potenziato Da D'aiuto erba Dovrebbe essere Facile Perfetto Grottagevole Piano Meno 7 Oh Che colosso Che colosso No guardatelo È immenso Sembra veramente Un boss Allora Là comunque C'è un Sarskit Io vado Qua di Energy Che gli fa Malissimo Guardate Guardate che maledetto Quel Sarskit Che si è messo In posizione Di bolla Eh vedete Come cavolo Vinco io L'umisfera Siamo messi Siamo messi Tutti e due In una situazione Pessima Penso di dover Utilizzare Quindi No No è vero Per colpirlo In quel modo Serve Grande Che ha fallito Bolla Eh no Dicevo Per colpirlo In quel modo C'è bisogno Di un alito Speciale Oh Arrivo Yamosk Da dietro Beh O copiamoci Di lui Uh Comunque ragazzi Che sudata Pensavo di perderla Subito La vita Invece no Ok Ce l'abbiamo fatta Siamo dei grandi Ok Che hai fame Ho capito Ho capito Però Aspetta un attimo Eh Andiamo Subito A farti Mangiare una mela Perfetto Ah eccola Che arriva Eh sono arrivati I nemici Sono arrivati I nemici E Boh ragazzi Veramente siamo in una pessima Situazione Penso di dover Utilizzare qua Di nuovo Una pietrisfera Per forza Perché ci serve Abusare subito Del recupero Allora Ok Va bene Va bene colpire Onix Che ora va di rafforzatore Ma subisce veramente Un sacco di danni Grande È grosso Ma subisce Troppi Troppi danni Sassata Aia Sassata Non ho capito No Non ho capito La cosa Vabbè Comunque Pistola acqua Via Siamo scampati Da una bella situazione Ve l'ho detto La pietrisfera È troppo Troppo utile Da una brutta situazione Ovviamente Non bella situazione Grotta Agevole Piano Meno 8 Baccarancia Ok La baccarancia No Devo ragazzi Iniziare a portarmi Più baccarancia Comunque Sì Ma stiamo scherzando No Ci ha fregato Ci ha fregato Proprio di brutto Energy palla No Ci ha fregato Di brutto Ci ha fregato Questo coso Perché ha lanciato L'osso Mi ha fatto Troppi danni Cavolo Cavolo No Non me l'aspettavo Un colpo del genere Cioè Va Va Vabbè Andiamo a mosse a pie Pacumor random Certo Scappiamo subito E È da parecchio Che camminiamo Oramai dovremmo essere vicini All'uscita Ah Andiamo Dark Devil Arriva della luce Dalla più o meno Wow Guarda Dark Devil C'è una grande città Laggiù Deve essere Brusilia Forza Andiamo Oh Non salviamo E Vediamo Vediamo Wow Bellissima Oh Questa città Sembra molto più animata Di Borgo Quieto Credo proprio Che abbiamo trovato Brusilia Chiediamo a qualcuno Scusa signora Oh Che bambina impertinente Non vedi che sono una signorina Ah scusa Scusa signorina Questa è Brusilia Ovvio Siete nuovi in città Non andate in giro da soli Rimanete con i vostri genitori E vi perderete È davvero Brusilia Finalmente siamo arrivati Dai Dark Devil Andiamo Oh Grande Guardate Guardate quanta gente Quanti luoghi Iniziamo ad esplorarli bene Va Basta uno sguardo E la memoria ritorna Cambiabilità Mi dispiace Ma senza una medaglia Ah ok Vabbè Rimangono sempre le stesse cose Vediamo un attimo Ricorda Vabbè Niente di che Clefki invece che fa Benvenuto ad apri sesamo Ad apriti sesamo Dalle più facili Alle più dure Si aprono tutte le serrature Oh Mentre Clefki Che apre Che apre I tesori È fantastico Perché effettivamente Lui è una chiave vivente Troppo figo Vediamo qua che succede Questa dovrebbe essere La piazza Ci sono un sacco di negozi La sede del gruppo Investigativo Investigativo Pokémon È qua Forza cerchiamo La Dark Devil Aia Ehi Mi hai fatto male Guarda dove metti i piedi Oh dei bambini Non vi avevo mai visto Da queste parti Bene 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 Io sono Crocoroc Sono il cattivo di questa città Avete dei soldi? Cosa? Non vorrà mica derubarci Anche pochi Non importa Se non volete Finirà male Fermati Oh Ah Bene Ben gli sta Questo Crocoroc Voleva rubarci i soldi Cavolo Ah Ci ha fatto male Ci hanno investito anche noi Ah Che caspita Dunque Dicevamo Voi varmocchi Datemi tutti i sold Fermati Vieni qui Non so perché Ma secondo me Quello Swirlix Sa molto di Osho A volte di Borgoquietto Comunque Ma che diamine Mi è passata la voglia Me ne vado al caffè Fiu l'abbiamo scampata bella Anche se non ho capito Cosa è successo Vabbè Dark Devil Andiamo a cercare La sede del Jeep Allora Abbiamo esplorato Là i primi cosi Qua Cosa c'è Creazione 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 di dati Del cinema Meo Completa Allora Questo è il cinema Meo Un cinema davvero speciale Dove la star Sei tu Se vuoi trasformare Le tue avventure In opere Cinemato Cine Meo Autografiche Oh Sei nel posto giusto Ah Grande Poi vedremo meglio Come funziona Poi vedremo meglio Come funziona Assolutamente Qua ci sono Sede inutili Qua vedo Giochiamo con il fango Oh certo Si Allora Qua Venite venite Signori Oro ti adoro Compravendita d'oro Per affari d'oro Io scambio tutto quello Che luccica brilla Risplende Oh oro come ti adoro Scambia con soldi Quanti lingotti vuoi cedere Ne abbiamo uno Hai detto uno Oh meraviglioso Pardon No aspettate Veramente abbiamo un lingotto Va bene Chissà dove l'abbiamo preso Benvenuti ai magazzini Kecleon Ah i grandi magazzini Kecleon Questi ci dovevano essere Per forza Prendiamoci due Revitalsemi mini Va Ok Sì perché Revitalsemi ci servono Ne abbiamo utilizzati Un bel po' Allora qua Vedo Anche la cosa Dei regali Ci dovrebbe essere Kangalcan appunto Uh Terremoto e carburante Veramente Ecco qua Ti consegno tutto Ah sì Erano due ricompense Della scorsa volta Va bene Qua ci sono un po' Di nostri amici Bello 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 Mi piace troppo Questa città ragazzi È fantastica Poi ci sono due vie Boh Secondo me questa è quella Che porta fuori dal villaggio No Questa porta diciamo Sulla spiaggia Vabbè Buongiorno Questo è il L'aprascafo Rivolgetevi a me Per raggiungere Terra al di là del mare Mi spiace Ma dei bambini Devono essere accompagnati Da un adulto Ok ok Va bene Quindi sì Qua c'è l'aprascafo E a questo punto Dobbiamo salire Per vedere un po' Dove si trova la sede del jeep Bene Chissà perché Ma secondo me è questa Che strano palazzo Sarà qui? Sembra molto simile alla gilda Vediamo cosa c'è scritto sul cartello Gruppo investigativo Pokémon E esperti In indagini Esplorazioni E ricerche A stenersi venditori Porta a porta Anche se questo cartello Non basterà fermarli Oh la la Questi venditori C'è scritto così Beh direi che l'abbiamo trovato Entriamo Haha Entriamo Sì assolutamente Permesso C'è nessuno Oh Bene Mi sa che qui non c'è proprio nessuno Magari sono in qualche stanza Diamo un'occhiata in giro Ok Vediamo un attimo Dark Devil Guarda Sì Si vede qualcosa Lì dentro Sembra una grande mappa Dark Devil Questo è Ma sì È il Geoglobo Eh Il Geoglobo Ne sono sicura Guarda Vedi che in alcuni punti Si vede una mappa E in altri no Ah è vero Alcune aree sono coperte Da nuvole Il Geoglobo Non è una mappa Come tutte le altre Quando viene scoperto Un posto nuovo Le nuvole spariscono Wow Così un po' alla volta Viene completata la mappa Del nostro mondo Ah fate largo Di nuovo Che succede Siete in trap Sei in trap La Swirlix Non puoi più scappare Ah Non impari proprio mai eh Non pensi alle conseguenze Delle tue azioni Prometti che non lo farei più Ah Non posso prometterlo Mi dispiace Denne ma non posso Uffa Non puoi continuare a mangiarti Tutto il nostro cibo Ne ho abbastanza Ehm Il Geoglobo Ops Oh no Povero me Il frutto del mio sudore Tutto perduto Arken Non è il momento Weasel ha ragione Abbiamo un problema Più importante adesso Il nostro cibo Il mio stomaco Che fame Mi sento debole Svengo Cosa? Ma com'è possibile? Assurdo E noi cosa dovremmo dire? Non tocchiamo il cibo Un cibo da una settimana Tutto ok? Eh Non preoccupatevi Stiamo bene Solo che Abbiamo così tanta fame Che non abbiamo neanche la forza Un momento Ma voi siete il gruppo investigativo Pokemon? Sì siamo noi Ed è tutta colpa di quella mangiona Che si è fatta fuori Tutto il nostro cibo Cosa? E come se non bastasse Eppure svenuta Per la fame Prima di tutti noi Non posso crederci È assurdo Comunque in queste condizioni Non possiamo fare molto Vi prego Portateci qualcosa da mangiare Sì tenete duro Daredevil Andiamo a cercare qualcosa da mangiare Beh teoricamente abbiamo Tanta mele Nella cosa Comunque Comunque ragazzi Io direi che Per questa parte è tutto Abbiamo iniziato a scoprire Brusilio Nella prossima Vedremo meglio Quel che ci aspetta Nel gruppo investigativo Pokémon Io vi ringrazio Ciao a tutti